Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Ieri sera i falchi della squadra mobile e gli agenti del commissariato De Cumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto in largo San Giovanni Maggiore Pignatelli un giovane che ha consegnato qualcosa ad alcuni ragazzi in cambio di denaro. I poliziotti hanno bloccato uno degli acquirenti che aveva indosso una bustina di marijuana del peso di circa 2 grammi e lo hanno sanzionato amministrativamente mentre lo spacciatore, un 19enne, è stato trovato in possesso della somma di 60 euro ed arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre un minore è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 centimetri ed è stato denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere.